L'ultima volta che sono stata qui Lucrezia è stata gentile a dire che c'era un po' di pioggia, io non so chi di voi era presente ma è stata una presentazione memorabile perché a un certo punto quando era il mio turno ha iniziato a tuonare, lampeggiare furiosamente, è sceso un uragano, io avevo questa gonna che continuava ad aprirsi a metà e io tentavo di tenerla ferma e loro da sotto mi continuavano a fare continua continua, quindi la piazza era vuota, io ero al centro praticamente in mutande e stavo parlando di ipocondria, quindi un momento altissimo. Oggi per fortuna c'è il sole, non rischiamo, ma su quell'esperienza io ho scritto poi un racconto che si intitola Memoria e quindi in realtà tutto torna all'interno di questo discorso che è uscito sulla rivista K l'anno scorso, che è una rivista di racconti che è curata da Nadia Terranova e Cristian Rocca per l'inchiesta, è una rivista secondo me molto interessante e in quel racconto parlavo appunto della memoria di questa giovane ricercatrice che ama le scrittrici dimenticate che però ha poca memoria, che poi sono io e mi ritrovavo, si ritrovava il personaggio, la personaggia sul palco e aveva dimenticato i propri appunti, io ho sempre con me degli appunti, dei fogli perché senza, avendo pochissime capacità mnemonica sono perduta e lei li aveva dimenticati e proprio mentre stava facendo questa fatica di cercare di iniziare di questa scrittrice dimenticata, il suo compagno le aveva detto ma non la conosce nessuno quindi anche se sbagli poco male, invece lei sentiva questa responsabilità proprio del fatto che non essendo conosciuta lei dovesse renderle onore e mentre iniziava arrivava questo famoso temporale e quindi lei si salvava dalla magari brutta figura pubblica. Io ho iniziato a occuparmi di scrittrici meno note e quando lavoravo per una casa editrice avevo 26 anni e avevo finito da poco il mio primo romanzo che poi sarebbe uscito qualche anno dopo. Ho iniziato a farlo all'inizio per pura casualità poi mi sono resa conto che andando in biblioteca e facendo delle ricerche che le scrittrici erano molte e che erano molto interessanti dal punto di vista dei temi, dal punto di vista linguistico e quindi mi è iniziata a sorgere una domanda che è proprio ma come mai? Praticamente nessuna è nota al pubblico, nessuna si trova in libreria, diciamo che ci sono un paio di scrittrici molto note dal punto di vista popolare del Novecento italiano e le altre completamente sommersi. Questo lavoro è un lavoro che mi ha preso tutti questi anni ma non è un lavoro perché obiettivamente non è mai qualcosa per cui io sono stata retribuita ma è semplicemente la mia personale passione di ricerca anche se non accademica. E quando mi chiedono perché in questi anni ti sei occupata così tanto di scrittrici e della loro memoria certe volte col fatto che l'avrete visto. Per fortuna e tante volte però non secondo me nel modo più giusto si cavalca l'onda editoriale del recupero femminile, il personaggio storico dimenticato, la donna di cui non si parla più, le donne nelle guerre, le donne storiche. Ecco certe volte c'è un sincero rapporto con la produzione editoriale legato all'interesse reale, agli studi reali, altre volte magari si cavalca quella che è una moda editoriale. La ragione per cui io ho iniziato questo percorso e non solo io, sono molte le persone che si occupano di scrittrici meno note, secondo me è molto ben riassunto in una vicenda che vi volevo raccontare oggi. Una vicenda che si lega molto al discorso che faceva prima i Jabba, senza dircelo, però ci siamo decisamente collegate. Questa vicenda parla di una scrittrice, una scrittrice nera che si chiama Zora Huston, è stata una scrittrice che è nata nel 1891, quindi verso la fine dell'Ottocento in Alabama. Morì da sola, senza un soldo, completamente dimenticata dai suoi editori, che al tempo erano Harper & Brothers, voi conoscerete HarperCollins, che è nata proprio dalla fusione di Harper & Brothers con la Collins, molto più avanti. Lei faticava moltissimo a vivere, perché veniva pagata poco e verso la fine della sua vita era praticamente misconosciuta e nonostante tutti i suoi lavori progressi, la sua importanza come scrittrice, come ricercatrice, come antropologa, si ritrovò da sola, le venne rifiutata la pubblicazione di questo libro e quindi venne fatta una colletta dai suoi vicini di casa per seppellirla, soltanto che ai tempi non era obbligatorio mettere una lapide sulla tomba e quindi lei venne sepolta in un cimitero di campagna senza una targa, quindi obiettivamente irriconoscibile. Lei appunto per farvi un cenno della sua vita era nata nel 1891 in Alabama, i suoi genitori, entrambi i suoi genitori erano stati ridotti in schiavitù, lei non ha potuto studiare all'inizio, ha studiato molto poco, proprio perché doveva lavorare e la famiglia aveva vari problemi economici, si trasferiscono in Florida a Eatonville, che è una delle prime comunità di soli afroamericani in America e questo ha contribuito moltissimo sul suo pensiero rispetto al rapporto tra la sua famiglia, la comunità di cui faceva parte e gli Stati Uniti d'America, ma anche qui servirebbe una parentesi che non vi apro, ma se voi la ricercate e cercate il suo pensiero è una scrittrice molto interessante. Lei, a me fa sempre piacere dare questo piccolo dettaglio strano però che ci fa sorridere ma d'altra parte ci dà un'idea della difficoltà, finse di essere ancora minorenne per poter continuare il liceo quando aveva ancora 26 anni. È stata effettivamente la prima donna nera che si è laureata in antropologia e poi ha dedicato moltissimo della sua vita e dei suoi studi proprio agli studi e anche del folklore e dell'antropologia e ha fatto tantissimi viaggi proprio alla ricerca di tutte quelle tradizioni, di tutti quei riferimenti che riguardavano la cultura nera, ma è molto nota perché ha partecipato a quel movimento new yorkese vivissimo e purtroppo poco conosciuto in Italia del rinascimento di Harlem in cui c'erano poeti, poete, scrittrici, scrittori proprio nel quartiere di New York che si erano uniti in una comunità che appunto si autopromuoveva, facevano delle riviste, facevano spettacoli, c'erano moltissimi incontri, c'era moltissimo fermento e lei è stata anche in qualche modo avuto questo ruolo di scopritrice di talenti all'interno di questa comunità e aveva una casa che veniva attraversata da moltissimi poeti e poete neri e addirittura insomma lei diceva che non riusciva più a scrivere, a fare niente in casa perché c'era sempre qualcuno lì che faceva o festa o chiacchierava tutta la notte. Lei si è sempre dedicata allo studio, alla promozione della cultura nera nel corso di tutta la sua vita e fece anche moltissimi viaggi, come vi ho detto, sia ad Haiti e in Giamaica. I suoi libri più noti sono la raccolta folcloristica Muli e Uomini e il romanzo I loro occhi guardavano Dio. Questi due lavori vennero pubblicati nella prima metà del Novecento, sono stati tradotti in Italia, non so se siano ancora del tutto presenti nelle librerie, temo di no, però sono stati ripubblicati varie volte. Come dicevo appunto, poi lei muore in totale povertà, abbandonata e dimenticata in qualche modo. Cosa succede? Che nel 1972, quindi passano più o meno quasi 15 anni dalla morte di Houston, Alice Walker, che invece è una scrittrice nera vivente, contemporanea, che forse conoscerete perché è stata ripubblicata di recente dalla casa editrice Sur, quindi la potete trovare ancora in libreria, il suo romanzo più famoso è Il Colore Viola, che è anche una militante per i diritti civili delle donne, annota sul suo diario, proprio nel 1972, che ha letto per la prima volta una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, chi conosce Alice Walker sa che questa è una cosa importante all'interno della sua carriera e del suo pensiero, ma in più ha scoperto molte scrittrici nere che sono morte in povertà, ed è la prima volta che lei nomina Zora Houston, proprio perché ha scoperto della vita di questa donna morta in povertà. E quindi cresce il suo interesse per tutte quelle donne nere e scrittrici che l'hanno preceduta e di cui si sono perse le tracce, consideriamo che qui è passato anche relativamente molto poco tempo. E lei dice che vuole portare avanti questa ricerca per scoprire della vita di Houston proprio perché vorrebbe farla tornare in catalogo, fare in modo che venga riconosciuta. Quindi c'è questa pulsione emotiva, questa pulsione, una parte anche d'orgoglio, che anche io ho percepito in moltissimi momenti, ma anche di autoaffermazione e non soltanto di riconoscimento delle radici, di recupero della memoria, di riaffermazione di un presente che non è sganciato da un passato di una tradizione letteraria. E che cosa fa? Nell'agosto del 73, quindi un anno dopo, questa nota da diario, decide di andare in spedizione, decide di partire con un'altra studiosa che è Charlotte Hunt per andare alla ricerca della tomba di Zora Houston, quella tomba che come abbiamo detto prima non aveva una lapide, lei voleva individuare la tomba di Houston e modificare il corso della storia. Da questo viaggio, da questo reportage, nasce un articolo che si chiama proprio Looking for Zora, Cercando Zora, scusatemi, del 1975. Nel suo diario, a proposito di quei giorni, Walker scrive Non torno a questo quaderno per scrivere della crociera caraibica di luglio, ma per scrivere le mie impressioni su Etonville e il dolore e l'orrore della memoria negletta di Zora, come appare chiaro dalla sua tomba. Non riesco ancora a scriverne, ma devo. Questi sono proprio i giorni in cui lei è rientrata dalla spedizione e quindi ha scoperto dove si trovava la tomba di Zora e l'ha presumibilmente individuata, ma è ancora troppo presto per scrivere l'articolo che scriverà più avanti. Charlotte Hunt, che l'accompagna, era una studiosa che si stava lavorando su Houston, una studiosa bianca, che viveva in Florida, vicino alla cittadina natale della scrittrice. Loro, come prima tappa, ovviamente vanno nel paese d'origine di Zora, a Etonville, si recano al municipio e Alice si finge la nipote. Quindi per fare questa ricerca dice di essere una parente della scrittrice che sta cercando di individuare la tomba perché non la trovano. Si finge la nipote per capire anche se c'è ancora qualcuno di vivo che l'ha conosciuta, perché non sono passati moltissimi anni e che possa dare loro delle informazioni su come è morta, dove è morta. Adesso io ricostruisco una storia che noi sappiamo, ma ovviamente allora lei è semplicemente andata in un paesino a cercare una donna che scriveva. Purtroppo si rende conto che molti l'hanno già iniziata a dimenticare, non se ne parla negli incontri pubblici, non se ne parla nelle scuole, nonostante sia stata una scrittrice molto importante proprio di quel paesino. E quindi già si inizia a non farla leggere alle nuove generazioni. Prima Lucrezia ha usato la parola canone, sarebbe difficile qui parlare con voi del canone, del fuoricanone, dell'oltrecanone, di tutto quello che circonda questa parola. Però ovviamente questa parola è un modo per classificare in qualche modo la letteratura e ciò che si considera in canone, ciò che resiste al tempo e che voi potete trovare considerato un classico che si trova in libreria, viene ristampato, viene letto nelle scuole, viene promosso, in qualche modo fa parte di una memoria collettiva che noi portiamo avanti da un punto di vista culturale e letterario. Lei si rende conto che questa scrittrice nera così importante, questa scrittrice come lei, è già un passo fuori da questa possibilità. Insomma, loro scoprono, grazie a un'anziana signora che sull'esempio di questa signora era stato creato un personaggio, tra l'altro in uno dei romanzi di Houston, che in realtà lei non è sepolta lì, ma si trova a Fort Pierce e quindi loro ripartono per una nuova spedizione, continua Looking for Zora, quindi non l'hanno trovata nel suo paesino perché poi si scoprirà, lei non aveva un buon rapporto con la propria famiglia e quindi non era voluta rientrare nel paesino d'origine per essere sepolta. Grazie a una donna dai capelli rossi, che è la figlia di un rivenditore delle pompe funebri, che aveva fatto seppellire Zora, riescono finalmente a capire dove si trova. C'è un cimitero di campagna e le dicono che al centro di questo cimitero si varca un cancello e c'è una specie di cerchio al centro, come un cerchio di prato, e dice la tomba è esattamente al centro di questo cerchio, che già la simbologia è particolarmente forte. Loro vanno a cercare questo cimitero di campagna e in questo momento, nelle vostre test, si sta ovviamente formando l'immagine di che cos'è un cimitero di campagna. Ecco, tutti noi se pensiamo a un cimitero lo immaginiamo più o meno tenuto bene. Ecco, in questo caso lei si trova davanti in realtà una specie di campo, un campo dove non c'è niente, c'è un campo con delle erbacce molto alte e quindi il terrore del fatto che questo cerchio, che doveva essere piccolo, è in realtà un campo molto grande. Quindi come fare a individuare una tomba senza lapide all'interno di un campo dove l'erba arriva alla vita. Ecco, ci sono queste tre donne, dovete immaginarle, al bordo del campo. Ecco, il gesto che fa, ovviamente c'è tutti i gesti che hanno preceduto questo momento, ma il gesto stesso in cui lei decide di entrare in questa alba alta è esattamente quella spinta che per me è la ricerca nei confronti della memoria sepolta. Cioè Alice si tira sul vestito la gonna, aveva delle scarpe qualsiasi perché non pensava di dover camminare nell'erba alta e si infila da sola nell'erba. Si infila da sola nell'erba, loro iniziano a vedere alcune, vedono dei serpenti, ci sono gli insetti, c'è di tutto, l'erba le arriva alla vita e lei inizia a camminare in questa erba molto alta e le altre le dicono, no ma Alice torna indietro, ci sono i serpenti, batti i piedi, tutte preoccupate e lei continua invece a setacciare, inizia a fare su e giù per vedere se c'è qualcosa alla base che possa assomigliare a una tomba al centro di questo spazio. Mentre sta facendo su e giù a un certo punto è disperata perché non trova niente che assomigli vagamente a una tomba e quindi dice sono venuta fin qui, è la seconda cittadina, a questo punto aveva parlato già con molte persone, finalmente ho capito che è qua, ma qua dove? E allora in looking for Zora lei inizia a dire ad alta voce dove sei, cioè la invoca praticamente, le dice Zora ma dove sei, noi siamo qui, siamo qui per te, dici dove sei, facci capire in che punto sei. Lei racconta che dopo questa invocazione facendo un giro proprio nella parte centrale vede che c'è un'area che assomiglia a una tomba effettivamente, un'area diversa dalle altre, un'area che potrebbe essere considerabile una sepoltura e quindi si confronta anche con la donna delle pompe funebri descrivendole un po' l'area e a quel punto lei dice ok, con grandi probabilità l'hanno sepolta qui e decide, va alle pompe funebri, compra un palo di ferro, tornano e impianta intanto questo palo per dire così la vedete anche con l'erba alta, sta lì e dopo va a farle fare la lapide, quindi grazie a Alice Walker viene creata la lapide per un'altra scrittrice, sulla lapide c'è questa iscrizione che è Zora Neale Houston, un genio del sud, scrittrice, folclorista, antropologa, 1901-1960. Questo gesto, questa storia a me hanno sempre colpito moltissimo, lei scopre anche degli altri piccoli dettagli intorno a Zora Houston, scopre appunto che aveva vissuto da sola l'ultima parte della sua vita, scopre che amava moltissimo i fiori, le azalee in particolare, aveva una piccola casetta verde e scopre che aveva un unico compagno di vita che si chiamava Sport ed era il suo cagnolino, era un cagnolino bianco e marrone. Scopre parlando con la gente che era molto amata nel quartiere ed è per questo che avevano fatto una colletta per farla almeno seppellire. Ecco, cosa accade grazie a Alice Walker? Accade che da quel momento, visto che lei continua a promuovere la memoria di questa scrittrice, il fatto che venga ripubblicata e visto che intanto la forza, diciamo, la credibilità e il riconoscimento di Walker aumentano contemporaneamente, aumenta anche questo recupero. Oggi nel paese di Etonville si festeggia, c'è un festival ogni anno di letteratura e spettacolo dedicato a Zora Houston che è il Houston Festival e Zora Houston è considerata tra i cento afroamericani più influenti della storia. Questo momento, questa storia nella sua semplicità ma anche secondo me nella sua grandezza, rappresenta moltissimo per me, dal punto di vista intimo, è una storia intima per me, del legame che si sente con una scrittrice che è stata dimenticata o con uno scrittore, perché ci sono moltissimi studiosi o studiosi che si occupano di scrittori, cioè i sommersi, quelli che hanno dato tanto, che hanno scritto tanto e hanno scritto bene e che però sono stati dimenticati. Io volevo per concludere darvi qualche nome delle scrittrici su cui ho lavorato in questi anni e che sarebbe bello se voi avrete l'occasione di andare a cercarvele. La prima è Piarimini, che io proprio nominavo all'interno di questo racconto che si chiamava Memoria, che è stata una scrittrice triestina che nonostante non fosse praticante, visto il suo cognome, è stata deportata ed è morta nei campi di concentramento, ma sono stati ripubblicati anche di recente alcuni suoi libri, è un'autrice fuori diritto che ha scritto delle storie molto forti sugli innamoramenti delle donne e su quanto questi innamoramenti ai tempi potevano distruggere la loro vita e consumarla. È stata una scrittrice che ha saputo toccare dei tasti dolenti, degli incontri d'amore e degli abbandoni soprattutto. Amalia Guglielminetti, che è stata un'altra scrittrice che ha saputo utilizzare lo stile barocco della fine dell'Ottocento in una maniera molto inventiva ed ironica, quindi caricando spesso lo stile proprio per prendere in giro certi perbenismi, certi pregiudizi nei confronti degli uomini e delle donne e per prendere in giro coloro i quali si dichiaravano artisti o poeti pubblicamente e le loro pochezze in qualche modo dietro le quinte. Virgilia D'Andrea, che è stata una poeta anarchica, una delle poche poete anarchiche, è stata la compagna di Armando Borghi che è stato un'importante sindacalista socialista, nonché uno degli uomini che ha conosciuto Mussolini da piccolo e che quindi ha vissuto in prima persona la conversione di Mussolini. Virgilia D'Andrea è stata ovviamente, come tutti gli anarchici, perseguitata e è dovuta andare negli Stati Uniti dove poi è morta di cancro, è stata spesso nelle carceri da cui ha scritto delle poesie molto forti, delle poesie in rima a particolar modo perché la poesia anarchica si avvicina sempre molto alla cantata, alla ballata anarchica che ha sempre fatto parte del linguaggio politico. A me piace ricordarla proprio perché mi sembra che i tempi in cui le cantate, le suonate e la poesia facevano parte del linguaggio politico sono belli che andati. Sibilla Leramo, che è una scrittrice che forse avrete sentito nominare un po' di più e che è stata una scrittrice che ha scritto molto di se stessa, ha scritto la sua prima autobiografia è Una Donna, che è uscito agli inizi del Novecento, è stata una scrittrice che ha avuto varie vite più nota per le sue relazioni che per la sua scrittura, purtroppo come a volte capita per le donne è una donna molto libera sessualmente e anche molto dolente, nel senso che queste relazioni le ha vissute con tutta se stessa, forse l'avete sentita nominare per il carteggio con Dino Campana uno dei nostri poeti del Novecento, tra l'altro tra quelli che amo di più anche se in realtà la loro relazione è durata meno di un anno, però è stata molto concentrata, molto forte. E poi Marise Ferro, lei lo voleva detto alla francese perché era una traduttrice dal francese è stata traduttrice tra gli altri anche di Zola come di Proust, ma è stata anche una scrittrice secondo me molto elegante, una scrittrice molto francese nel nostro panorama se volete leggerla si trova adesso in libreria La ragazza del giardino che è un bellissimo romanzo ambientato in questo giardino dove tutte le pulsioni tutti i momenti della vita di questa bambina e poi ragazza si vengono raccontati e si svolgono. Le ultime due le ho lasciate per ultime perché sono un po' le mie autrici del cuore una è Laudomia Bonanni che è stata una scrittrice aquilana lei è nata come insegnante nei contesti rurali degli appennini e poi successivamente ha lavorato con le carceri minorili dal suoi rapporti con i bambini e le bambine nei carceri minorili è nato un testo che si intitola Vietato ai minori ma è stata anche scoperta dai coniugi bellonci che organizzano a Roma il premio strega e ha vinto il primo e unico premio inedito degli Amici della Domenica e da lì è stata pubblicata da grandi editori la maggior parte dei suoi romanzi sono della seconda metà del novecento e sono stati pubblicati da Bonpiani che è anche il mio editore ma che non l'ha più in catalogo, non l'ha mai più ripubblicata. Per ultima lascio Livia De Stefani lascio lei per ultima perché è una scrittrice a cui sono legata da profondo amore è stata una scrittrice siciliana trapiantata molto presto a Roma in realtà è stata anche una redattrice perché ha lavorato per Rizzoli ho scoperto che ha lavorato per Rizzoli vari anni anche la figlia ha lavorato per Rizzoli e ha pubblicato alcuni romanzi il primo è La vigna delle uve nere il suo romanzo d'esordio alcuni romanzi di ambiente contadino e altri invece molto eclettici come per esempio La stella Astenzio che è uno dei primi esempi di fantascienza nella letteratura italiana dal punto di vista delle donne ma è stata soprattutto una maga del racconto per quanto mi riguarda una grande scrittrice di racconti che ha pubblicato dagli anni 50 in poi perché la lascio per ultima perché insieme alle eredi che sono le due nipoti stiamo lavorando al fondo De Stefani finalmente dopo molti anni siamo riusciti a recuperare tutte le carte che la riguardano e quindi la Casa delle Donne di Roma accoglierà dentro Archivia che è il progetto proprio dell'archivio delle donne della Casa delle Donne di Roma soprattutto donne militanti, pensatrici ma anche poete e scrittrici accoglierà questo fondo accogliere un fondo all'interno di uno spazio come la Casa delle Donne vuol dire porre un vincolo sopra il fondo questo vuol dire che a prescindere da me e a prescindere dall'eredi i suoi materiali, tutti i suoi inediti tutti i suoi manoscritti la sua macchina per scrivere tutte le sue fotografie verranno considerate culturalmente importanti e quindi il suo fondo non sarà più smembrabile non sarà più possibile dividere le carte che verranno portate all'interno dell'archivio ecco io credo che questo lavoro e il lavoro nei confronti delle scrittrici recuperate non è un lavoro di moda non è un lavoro passeggero è un lavoro fisico anche è un lavoro profondamente emotivo e anche di relazione nei confronti proprio del recupero di delle donne che non possono più parlare per se stesse e a cui temiamo sempre di fare un torto anche nel momento in cui le raccontiamo al pubblico o cerchiamo di farle riscoprire ecco volevo raccontarvi questa storia per raccontare un po' la mia storia e la storia di queste scrittrici spero che questa sia un'occasione per voi per informarvi di più su alcune di loro e andarle a cercare in libreria grazie 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 grazie